Scusa, buongiorno Flash. Buongiorno Parker. Ehi, tu? Tu sei Peter, vero? Io adoro le tue foto. Grazie, grazie. Senti, hai da fare venerdì sera? Forte. Faresti una foto alla macchina del mio ragazzo? Gliene vorrei far incorniciare una per il suo compleanno. Sei molto gentile. È un'idea carina. Devo dare un'occhiata alla mia agenda. Ok. Parker? Sì, signora? Ci tieni a quello skateboard? Sì, va sollevato da terra. Ruote in alto. Così? Sì, così. Ok. Ehi. Sì, sì, sì. Sì, sì. M hasta il nostro corso. No, no, no. Sì, sì. Ciao. Sì, sì. No, no. No, no. Mangia, 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 mangia. Forza, pulisci il tietto, guarda. Dai, sbrigati. Ehi, Parker, vieni qui, fa una foto, muovi. No, non faccio nessuna foto, mettilo giù, Flash. Mettilo giù, dai. Gordo, non dargli retta a non mangiare. Fa questa foto, Parker. Mettilo giù, Flash. Ho detto fa la foto. Mettilo giù, Eugene. Forza, tirati su, Parker Dai, alzati, muovi Alzati, Parker Però la foto non la faccio Sta lì, Parker Chi vuole che continui? Flash! Continuo, eh? Flash Ci vediamo dopo scuola oggi? Da me alle due e mezzo? Spero che tu abbia fatto i compiti L'ultima volta mi hai... Molto delusa Dai, sposta No, che ne dici di andare in classe? Va bene? No, che ne dici di andare in classe? Avevo fantastico quello che hai fatto È stato stupido Ma fantastico Dovresti andare in infermeria, magari è una commozione Come ti chiami? Non sai come mi chiamo? No, lo so come ti chiami Vediamo se te lo ricordi tu Peter Parker, Peter Parker Ok, ok, bene Io in infermeria ci andrai Tu sei Gwen, giusto? Gwen stessi Per chi è un ullo sempre Come ti c'è un ullo sempre Come ti c'è un ullo sempre